Venire a San Siro e giocare comunque a viso aperto contro la capolista non è da tutti. Io avevo solo detto ai ragazzi di vivere questo momento pensando in grande e di non vivere di rimpianti e i miei ragazzi sicuramente non vivranno di rimpianti. Poi noi in Italia abbiamo perso un mondiale i rigori, se possono perdere. Quindi ringrazio chi si è presentato a battere i rigori ad oltranza. Io ho sbagliato poco i rigori nella vita perché non mi presentavo mai. Sono stati bravi i ragazzi, ho detto solo che non hanno perso perché sul campo non abbiamo perso e quindi mettere in difficoltà l'Inter non è da tutti, i ragazzi ci sono riusciti. Sono orgoglioso di questi ragazzi perché ci siamo allenati in questi dieci giorni dopo San Benedetto con grande serenità. Dovevamo affrontare l'Inter e poi è logico che in ognuno di noi le motivazioni aumentano perché è anche normale e quindi dispiace perché volevo vedere piangere di gioia i tifosi e i ragazzi se fossimo andati avanti. Però domenica inizia il nostro campionato, quello che c'è a partire. La ricordo positivamente. Io ho detto ai ragazzi di giocare la partita e non farsi giocare dalla partita. perché se venivi a San Siro e ti difendi nella tua area per esperienza, una volta che prendi il primo gol finisci a goleada. Le avevo detto anche di giocare sotto pressione perché era giusto. anche perché mi piace che la squadra giochi a calcio. Non sembra che poi riesci perché per fare una buona partita ci devono essere due squadre che giocano a calcio. Ecco, l'unico dispiacere è che volevo che questi ragazzi dopo i 120 minuti meritavano qualcosa in più. Però questo è il calcio, da domani si riparte. I ragazzi gli ho fatti complimenti e ho detto anche di alzare la testa perché non siamo usciti vinti da San Siro. Di giocare senza avere rimpianti ci sono riusciti i ragazzi. Sfiorando il gol in tante occasioni. Poi è logico che, come ho detto prima, davanti avevamo l'Inter, la prima in classifica. E quindi questo qua, la motivazione era quella di arrivare a San Siro e di giocare la partita, come ho detto prima, di non farsi giocare dalla partita. E sono stati bravi. Ecco, tutti, tutti. Mi dispiace che non fossero sette, otto cambi come negli allievi. altrimenti avrei fatto giocare tutti i ragazzi perché erano tutti disposti e prerisposti a giocare. Però c'è un regolamento, appena mi diranno, che lo cambieranno. Veramente di cuore avremmo andato tutti e 23 in campo.